Voltiamo pagina, Adriano Soffri critica il film Storia di una strage di Marchio Tullio Giordana riguardante la storia della strage di Piazza Fontana e racconta la sua verità in un ebook. E a proposito di cronaca dei giorni nostri andiamo a Gravorrano in provincia di Grosseto dove la Guardia di Finanza ha scoperto una discarica abusiva. Torniamo invece a parlare del caso del 77enne morto per il distacco dei punti di sutura a seguito di un'operazione avvenuta all'ospedale della Versilia a Lido di Camaiore. Anche la Commissione parlamentare di inchiesa sugli errori in sanità vuole saperne di più.